Questi mesi di lockdown sono stati per tutti mesi di solitudine, di angoscia, inutile negarlo, bisogna dire la verità, mesi in cui abbiamo perso il contatto con gli altri e quello che ho fatto io personalmente è stato cercare di non dar la vinta al lasciarsi andare, alla voglia di non fare niente, al fatto che se si sta in casa non si fa, no, cercare invece di fare qualche cosa di buono del tempo che ci viene dato, anche se questo è un tempo se non di prigionia, di monastero in qualche modo. Allora ho cercato di scrivere il libro che da anni volevo scrivere su mia madre, una pagina al giorno, sostanzialmente ho cominciato a chiamare a raccolta i ricordi, le parole che mia madre usava e da quelle ho cominciato a tessere la trama di un libro, che è quasi finito e che è ciò che mi ha messo in comunicazione con il me stesso bambino, quindi ho ritrovato almeno un amico, cioè me stesso di tanti anni fa e forse un po' anche mia madre che adesso non c'è più. Poi ho cercato di non dar la vinta anche all'assenza di cinema, quindi a vedere quanto più possibile voracemente film e serie televisive anche. Ho scoperto che le serie televisive non sono il demonio, che le piattaforme non sono il demonio, che RaiPlay è sostanzialmente un angelo che ti conforta nei momenti di abbandono e ho scoperto delle serie meravigliose come Il Paradiso delle Signore della prima e seconda stagione, per dirne una, o La recentissima Regina degli Scacchi, che è straordinaria. E ho visto al cinema, nella breve finestra autunnale, diciamo, in cui i cinema sono stati aperti, un film che ho molto amato, che è Cosa sarà di Francesco Bruni, film che ha avuto una difficile uscita, doveva uscire a marzo, poi è uscito in autunno, poi ha prodato adesso sulle piattaforme. Se non l'avete visto vi consiglio di vederlo.